ben trovati a questo nuovo video in questo video farò vedere una cosa molto interessante che riguarda il time frame a sei ore come avete letto probabilmente nel titolo andremo a capire come poter andare a lavorare anche a livello proprio operativo ad ascoltare quella che è la voce della price action anche su time frame più bassi del weekly e il daily in questo canale voi avete visto sicuramente alcuni video riguardante il time frame a quattro ore in questo video invece vorrei parlare del grafico a sei ore ormai da un po di tempo osservo con molta con molti approfondimenti in cui a volte mi capita anche di aprire delle posizioni e gestirle anche direttamente proprio sul sei ore quindi vorrei con voi andare a vedere quali che sono le dinamiche più interessanti in questo caso mi andrò a soffermare principalmente sulle pinocchio bar a sei ore sulle pin bar a sei ore o le tail bar a sei ore magari può essere che nel futuro farò anche degli altri video dove andremo a vedere alcune altre dinamiche del time frame a sei ore quindi in questo caso non mi andrò troppo a diciamo non andrò a guardare i dettagli della struttura a sei ore ovvero quelle che sono le macro micro tendenze i livelli chiave le volatilità ma cercherò di soffermarmi proprio di più sulla pin bar a sei ore ovviamente io vado sempre a contestualizzare un po tutto quello che ho appena detto quindi la struttura di fondo ma non tanto guardando magari un grafico weekly o daily ma proprio andando a soffermarmi direttamente sulla struttura di brevissimo termine quindi del sei ore il sei ore che io prendo a come a esempio qui ma è poi quello che principalmente utilizzo per la mia operatività quando faccio delle operazioni di brevissimo termine su grafico sei ore sono i grafici di pro real time che io ho con il mio broker che è i g i g market su cui ovviamente ho la maggioranza insomma della mia della mia operatività e quindi vado a lavorare su questa dico così perché il sei ore ovviamente dipende un po dalla soprattutto sul mercato del forex della chiusura giornaliera ci sono dei broker che hanno la chiusura giornaliera alle ore 23 alcuni a mezzanotte alcuni a luna e quindi questa cosa va a sfasare un pochino alcuni time frame intraday come per esempio il sei ore o il quattro ore diciamo che anche per esempio con i grafici di trading view che molto sono utilizzati può andar bene anche lì per carità può essere un po diversa io in quel caso vado a lavorare di più a guardare quella che è la la price action a quattro ore su trading view che assomiglia un po di più per chiusura di orari a il sei ore di pro real time il sessore di pro real time che io guardo è il sei ore che ha come candele vedete se adesso io prendo in questo momento il mercato euro dollaro a sei ore vedete questa qui è la candela che ha aperto alle sette di questa mattina e che chiuderà alle tredici quindi in questa sessione si vedrà quelle che sono gli scambi proprio durante la fase diciamo della mattina dell'europa guardando euro dollaro le due fasi più concitate più piene di volatilità dove ci possono essere più scambi sono la fase europea quindi sette tredici e l'altra candela sei ore che è quella che va dalle tredici fino alle diciannove ovviamente queste sono le diciamo candele a sei ore un po più interessanti poi ovviamente abbiamo quella vedete qua ieri è quella che va dalle diciannove fino a 20 21 22 23 mezzanotte una fino all'una e dopo quella dall'una alle sette ovviamente io questa qua da dalle sette fino all'una e dall'una fino alle abbiamo detto alle sette scusate ma non le guardo quasi mai questo tipo di candele non le guardo moltissimo spesso la candela sei ore del pomeriggio o anche del tardo pomeriggio quindi quella che dalle sette in avanti può essere anche anticipatoria di movimenti sul daily però andiamo a vedere un po anzi andiamo proprio indietro anche nel tempo per vedere delle dinamiche pin bar che possono essere interessanti o tail bar nel nostro nel nostro trading no e qui troviamo per esempio se prendo questa fase altamente short guardiamo come nel mercato ci sono delle situazioni che possono adesso qui ve le segno con la pennetta ecco qua che possono essere interessanti abbiamo per esempio questa forte tail bar che vedete butta su poi sfalsa leggermente qui e il mercato scende un'altra bella tail bar pin bar eccola qui è sempre dopo una gamba short il mercato lateralizza fuoriesce sfalsa i massimi e crea un altro movimento poi abbiamo un'altra bellissima pin bar qui eccola qua che poi sfalsa leggermente ecco che ovviamente a livello di stop non dobbiamo metterci mai esattamente schiacciati sui massimi nel senso che se questa è una pin bar che io magari voglio tradare nel mio trading questa è una pin bar che va dalle tredici alle diciannove se io vado a piantare un ordine alle diciannove per operare nel breve termine questo stiamo parlando un grafico a sei ore questo movimento poi la mattina tra le sette e le tredici della mattina mi troverò con questa è ovvio che nella gestione di un time frame così non è che posso andare a aspettare che lui mi torni indietro così ma anche se fosse sicuramente lo stop non va mai inserito troppo vicino quindi non va preso questo è il massimo della candela che abbiamo visto quindi il massimo abbiamo detto a 1 0 887 qua fa 1 0 8 e 97 io metti che metto 5 pip sopra 0 887 8 e 93 qua verrei preso non devo tenermi neanche 10 pips solitamente si mantiene un 50 100 per cento della candela gestendola però in maniera più più avanzata rispetto magari a un trade sul week sul daily dove magari si lascia che il mercato abbia un po il suo qui stiamo in un time frame un po più basso dobbiamo cercare di prendere quello che ci dà quindi in questo caso se noi andiamo a prendere qui si va a posizionare magari uno stop che può essere o al 150 per cento quindi qui o al cento per cento della candela massimo e minimo che ci entra io questo l'ho spiegato nel mio ultimo libro anzi nel mio libro più ufficiale che è uscito per trading library proprio ormai un paio di mesi fa che è questo qui guadagnare sui mercati con il price action trading lo potete trovare ovunque sono 200 pagine dove vado anche a spiegare questi concetti e lo trovate su amazon su trading library su tutte le varie o apple eccetera eccetera questo può essere sicuramente un modo per gestire lo stop quindi comunque non saremo presi ma in realtà si va a gestire la price action perché essendo un trade di brevissimo termine nel momento in cui può girare qui si deve andare ovviamente a stopparsi in profit nel momento in cui il mercato torna indietro e comunque tutte queste fasi sono fasi che possono essere interessanti sono delle pin bar interessanti pin bar tail bar interessanti ne vedo un'altra qui guardate quando il mercato forma questo minimo scende nuovamente una volta che crea questo grande forte sell off recupera il livello fa un po di abbassamento di vola e guardate fa finta di ritornare al ribasso per recuperare questa di quelle che abbiamo visto è una delle pin bar più forti perché è proprio quella che sta sfalsando questo è anche un inside fake out se guardiamo bene e che crea proprio il classico per un movimento bullish bello bello tosto infatti se noi andiamo a prendere massimo 107 78 minimo 107 32 si tratta di da massimo a minimo 46 pip come possiamo vedere poi il mercato una volta che brecca sopra questa è una candela che va dalle 13 alle 19 si muove verso l'alto e ovviamente anche qui va gestito e quindi si poteva prendere il primo movimento andando magari a lavorare sulle estensioni di volatilità del setup quindi l'estensione t3 t5 t4 anche t6 però insomma da t3 a t5 sono le tre estensioni principali quindi vuol dire 161 8 211 8 161 8 quindi primo target qui secondo terzo ovviamente poi si lavora si può comunque tranquillamente andare a prendere anche il primo movimento sul t3 è già un buon movimento si tratta sempre ripeto di trade di brevissimo termine che vanno a lavorare su movimenti di qualche di qualche sei ore quindi di uno due tre giorni al massimo insomma ecco anche qui questa è una pin bar contro trend ma che arriva vedete su un'area molto importante queste sono aree segnate addirittura sul daily weekly e questa pin bar poi crea dell'inside questa è stata creata sempre dalle 13 alle 19 di venerdì quindi poi alla fine si aspetta lunedì si può lavorare sulla sua breakout o sul ritracciamento anche in questo caso per esempio sarebbe stato molto efficace la loro ritracciamento in realtà è spesso efficace lavorare su un lieve ritracciamento del 20 30 per cento della pin bar una volta breccata spesso una volta breccata tende un po recuperarla quindi si riesce ad entrare un pelo meglio e anche qui andiamo a prendere un attimo la cosa ecco qui una volta breccata vedete si può entrare magari su un 20 per cento di tracciamento penso a questo livello una volta che brecca e anche qui si può andare a prendere il primo t3 che è il primo livello quindi praticamente la zona che passa per questo minimo quindi si entra più o meno qua su questa pin bar lo stop deve essere in questo caso magari invece del cento per cento a mio avviso basterebbe metterlo al cinquanta per cento della volatilità perché comunque questa è una grande falsa rottura in un movimento di tendenza long precedente quindi non dobbiamo dargli troppo spazio per il movimento contrario questo movimento che può essere interessante da andare a prendere sempre attraverso una pin bar su grafico a sei ore un'altra pin bar molto interessante la vedo qui questo long guardate su questo livello quindi il mercato anche questa è una mini pin bar questa è una tail bar ecco in questo caso nel momento in cui io entro long qui mi rifà questo e mi fa una falsa rottura ovviamente sono operazioni ripeto di breve termine che vanno poi chiuse in questo caso a brecchiva con un leve perdita perché qui non abbiamo una stesura precedente sul daily o sul weekly che ci permette di avere anche una view proprio a livello di di trading un po più ampia quindi bisogna prendere quello che il mercato ci dà non andare a cercare dei movimenti così così enormi diciamo poi vediamo se ci sono altre pin baranze prendiamo un altro grafico proprio facciamo sempre una cosa molto molto come dire reale e sul pezzo proprio live di quello che sta succedendo prendiamo un altro mercato prendiamo cosa prendiamo il dax prendiamo il dax che così è un mercato anche diverso al mercato valutario prendo sempre un sei ore anche qui ci sono una marea di opportunità se prendiamo guardate un po qui vedo qualcosa che arriva penso a questa super pin bar anche questa avevamo un livello qui importante avevamo tutta questa zona di resistenza questa fuoriesce e crea questo vedete una volta che rompe ritraccio un pelino mi si può magari una volta che rompe inserire un ordine pendente se limita circa un 20 10 15 20 per cento dalla pin bar perché spesso lo fa no che lui ritraccia un pelo no da dalla rottura e anche qui si può andare inserire un ordine stop circa il 50 per cento della vola della pin barra e si può andare a prendere quello che ci dà anche qui magari in questa zona si potrebbe andare a chiudere l'operazione si da cercare un movimento di breve termine che può essere efficace bisogna stare attenti a evitare le trappoline per esempio andare contro trend penso a questa pin bar contro quella tendenza che stava facendo vedete che non sia una pin bar che ha una volatilità un po come questa o che sia su un livello chiave importante in questo caso il mercato sta salendo questa è una pin bar di recupero mercato poi continua questa è una pinocchio bar sicuramente affrontabile long questa qui sono le classiche pin bar che non stanno indicando una discesa ma stanno indicando più che altro un come dire magari una presa profitti e non quindi un andare short se questa pin bar fosse stata più come questa qui quindi magari avesse fatto questo e questo sarebbe stato probabilmente molto diverso e questa potrebbe essere stata una pin bar da prendere perché la volatilità l'arrivo sul livello e le false rotture dei massimi precedenti avrebbero dato dei significati diversi quindi avremmo sicuramente optato magari per uno short quindi tra in questo in questo momento vedendo questo grafico mi viene da dire le migliori pin bar sono appunto questa sono questa e queste sono le due migliori pin bar proprio per come sono posizionate questa è una pin bar in un range dove c'è quindi su una resistenza questa invece una pin bar su una gamba long movimento long a b che fa da c quindi 1 2 3 e poi fa ripartire il tutto e l'obiettivo magari in questo caso può essere il livello precedente quindi questa zona sempre obiettivi che devono essere ovviamente piccolini si parla sempre di un grafico a 6 ore non di un grafico weekly o daily quindi stiamo parlando sempre di situazioni che vanno viste per quello che sono anche nel time frame di riferimento no vediamo se noto qualcosa anche qui nel brevissimo sì c'è qualcosina ci sono delle pin bar qui sia short che long ce ne sono parecchie ce ne sono parecchie soprattutto sugli estremi o anche in trend in questo caso per esempio vedete siamo in una fase long questa è una pin bar fatta tra le 13 e le 19 come sempre spesso il pomeriggio crea questo tipo di price action ed ecco che questa in trend una volta che rompe in minima questa qua vedete una volta che rompe il massimo non ritraccia mai almeno non lo sappiamo poi se durante ha fatto una rottura poi rientrata un po questo non lo possiamo sapere però questa continua quindi se avessimo messo un ordine dopo la rottura leggermente qui potrebbe essere anche che fossimo stati presi perché magari il mercato dopo la rottura qui è sceso un po questo time frame a 6 ore non ci mostra il dettaglio però comunque mercato che poi è andato verso l'alto stessa cosa vale per questa pin bar vale per questa pin bar questa molto meno questa anche questa era valida questa era valida queste sono tutte pinocchio bar sul sei ore che possono essere prese e guardate e osservate ovviamente se per esempio facciamo proprio un esempio chiaro andiamo a comprare anche questa che può essere un movimento che ci aspettiamo possa arrivare qua quindi sempre di brevissimo termine con poco spazio ma magari nell'ottica di trading no di fare un'operazione cina che può essere comunque gratificante sia da un punto di vista operativo di trading ma anche di vista economico bisogna poi stare attenti perché quando il mercato gira ed è in una fase come questa dobbiamo anche tendere a uscire poi magari la rottura di questo minimo e magari a collarci anche una piccola perdita perché questo fa parte del trading vale poi per questa che invece magari comprata ci dà subito l'obiettivo questa pure se noi guardiamo tra queste tre che abbiamo visto quattro quindi questa 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 e questa diciamo che questa avrebbe comunque generato un buon movimento che non voglio dire bisognava prenderlo per forza tutto comunque ci dava la possibilità magari di uscire sotto di questo minimo su questa mini pin in questo caso uscire con una lieve perdita sotto qui in questo caso comprare magari se non penso che l'obiettivo si potesse mettere qui ma anche se aspettiamo una pre section contraria magari uscire qui e qui magari addirittura entrare short e se non si vuole uscire su questo livello si può uscire sul primo massimo che viene rotto quindi uscire qua poi nella gestione si può fare tutto l'importante è appena il mercato dice il contrario posizionare gli stop profit e ridurre al massimo quelle che sono i concetti di perdita o anche di profitto nel caso quindi salvaguardare proprio il movimento perché ripeto sei ore è un time frame di breve durata che quindi non ci indica di stare a mercato più di tanto però ci può dare qualche spunto un'altra pin bara sei ore eccola qui è questa anche qui molto bello il movimento qui ci sarebbe stato veramente magari l'obiettivo poteva essere inizialmente questa zona che magari non viene toccata quando lui inizia a fermarsi crea questa inside si può andare a fare take profit quindi stop profit quindi se avevamo uno stop inizialmente circa il 50 per cento di questa volatilità quindi posto qui qui si va a posizionare lo stop profit e si esce perché si va al contrario quindi essere sempre molto attenti alla modifica della posizione anche questo guardate interessante cioè questa è una bellissima pin bar che arriva che falsi massimi di questo viene rotto tac recupera quindi magari mi sposto con lo stop qui sopra continua a fare giù e qui vado e quindi anche qui prendo quel poco ma lo prendo stessa cosa vale poi successivamente guardate qui ce ne è veramente un sacco questo è l'ultimo periodo tra l'altro luglio tra l'altro io un paio di queste le ho anche tradate personalmente in un mio conto vedete questo è praticamente una pin bar short bam che fa il movimento short arriva proprio su questi minimi qui si poteva prendere profitto ma come dicevo prima nel caso in cui poi si rientri si vada si può andare a chiudere no in stop profit l'opposizione addirittura questa è una tail bar contraria e si potrebbe comprare e qui vabbè l'obiettivo potrebbe essere questo in realtà poi se si utilizza una gestione in trailing profit addirittura vabbè qui potrebbe essere ancora in profitto ma facciamo anche un'altra magari un'altra visione vediamo per esempio il gold volete vedere il gold e il petrolio anche il petrolio è molto sensibile alle pin bar a sei ore però vediamo il gold anche lui molto molto interessante vediamo un po' se c'è qualche spunto sì ce n'è qualcuno penso per esempio a queste due di tre dinamiche che sono venute a creare questa forte tail bar contro trend che si poteva appunto lavorare sulla rottura anche qui vedete quando il mercato non ne ha più bisogna saper uscire dove c'è l'ulteriore pin bar si può addirittura entrare long uscire dalla posizione short entrare long e cercare di prendere quello che ci dà al mercato quindi per esempio questa zona non è molto però per esempio poi successivamente c'è questa c'è questa e poi magari c'è questa che è quella che ci paga di più quindi noi magari entriamo short e qui guardate se gestiamo sempre in una gestione di trailing stop poco sopra i massimi precedenti ecco che andremo a prendere qui un bel movimento dell'oro short queste sono tre pin bar che sono nate proprio nell'ultimo periodo tra aprile maggio se non sbaglio no aprile 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 quindi questo sull'oro adesso non ne vedo altre sì ce ne sono qualcuna qui che può essere utilizzata vediamo anche il crude il crude oil non volevo fare un video troppo lungo anche sul crude oil ci sono un mare di pin bar quando vedete alcune le notate perché hanno grandi spike ce n'è una qui eccola qua per esempio questa potrebbe essere acquistata long però anche qui vedete quando il mercato poi non ne ha più bisogna saper uscire anche dal mercato quindi inizia a dare i primi segni di cedimento si riesce anche a brecchive uno con un piccolo una piccola perdita ecco in questo caso l'operatività deve essere gestita di sei ore in sei ore e spostate gli stop stessa cosa vale per questo questa è una grossissima pin bar guardate che si può tradare qui sotto il primo obiettivo ovviamente qui magari si può anche lasciare un obiettivo più ampio ma se vediamo che il mercato non è più iniziamo a spostarci sopra i massimi precedenti quindi o riusciamo e prendiamo tutto il movimento verso i minimi oppure se vogliamo provare a fare trailing stop e trailing profit quindi prendiamo un po' meno ma comunque è sempre una posizione che ci dà qualche spunto diciamo qui vediamo se c'è anche qui guardate questa è una classica pin bar con falsa rottura sul sei ore guardate un po' il mercato quindi il mercato va guardate viene giù quindi qui se io sono entrato long qui avrò uno stop più o meno qui con questa vado assolutamente a spostare lo stop qui perché se il mercato dovesse continuare perdo poco ma il mercato poi continua e quindi magari mi sposto qui e poi magari esco sulla prima pin bar e prendo una piccola parte del movimento perché poi lui ne fa un'altra eccola qua questa è un ulteriore pin bar molto interessante sempre a sei ore anche qui viene si può vendere il petrolio qui abbiamo il primo obiettivo io qui sinceramente porterei a casa sempre nell'ottica che sul sei ore sui primi target supportivi sui primi supporti sono i target e quindi porterei a casa però vedete che comunque il mercato in trailing stop ci farebbe uscire comunque con un piccolo profitto magari quindi ci sono posizioni che magari prendono veramente qualche qualche punto però possono essere interessanti ovviamente anche a livello di perdite si mantengono molto le perdite molto piccole molto 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 basse diciamo a livello di costo diciamo proprio qui ne vedo un'altra per esempio questa è una super pin bar molto interessante ecco qui per esempio il mercato qui io andrei a posizionare un target qui in macchina quando ci fa questa bianca si potrebbe posizionare uno stop profit lì qui se torna indietro poi qua boom viene giù addirittura la target addirittura farebbe molto di più però insomma questo potrebbe essere un'idea poi vabbè io adesso qua sto parlando solo di pin bar tradabili quindi non queste cose qua cioè che abbiano no una decente struttura precedente soprattutto che abbiano un mini swing una falsa rottura ecco per esempio due che vedo molto interessanti sono queste per esempio qua mi sa che ci ho fatto anche il trade anche sul platinum qui mi sa ancora a dicembre gennaio non mi ricordo più ma forse questo e anche qui vedete movimenti molto forti che possono essere veramente danno spinte insomma magari anche solamente di qualche ora ma sono sicuramente possibili da trarre come strategie di entrata proprio sul sul trade no forse era questa no questa guerra quella che avevo tradato io era quelle che avevo fatto d'agosto settembre se si mi ricorda ecco anche qui ci sono no iniziano delle pin barra qui vabbè il movimento è stato incredibile soprattutto dopo l'ultima pin barra che dopo questa che su cui si poteva andare praticamente a brecchive non in leggera perdita il mercato ha iniziato un movimento devastante diciamo verso l'alto quindi guardate quante pin bar che ci sono quelle poi in trend così come questa come questa guardate sono le più le più remunerative queste che hanno già sono sopra la media mobile 21 sono creano falsa rottura dei minimi precedenti e sono veramente toste e creano dei movimenti che ripeto non durano tantissimo stiamo stiamo parlando sempre di un time frame che è all'interno della giornata quindi non dobbiamo pensare che da quella operazione noi andiamo a prendere chissà che cosa ma sono operatività di breve termine attraverso l'uso comunque di un time frame molto accurato come il grafico a sei ore che ci offre comunque una buona visione della price action e ci dà anche l'opportunità di fare un classico set and forget senza essere troppo legati ovviamente a rimanere collegati al grafico una volta aperta la posizione una volta inserito l'ordine si può riguardare la l'operazione alla chiusura delle sei ore successive come lo utilizzo io a volte addirittura lo utilizzo anche per conferme sul daily eccetera ma per come ve l'ho mostrato oggi è appunto un'operatività che deve essere vista così per quello che è quindi un'operatività un pochino più di non di ampio respiro ma di breve respiro che va a cercare un movimento che dura veramente al massimo io ho visto massimo tre giorni cioè sono proprio movimenti che a volte durano veramente nelle sei ore successive o poco più quindi massimo tre giorni l'accuratezza grafica appunto ci permette di guardare come dicevo ogni sei ore quindi lasciare che il mercato si muova in quelle sei ore e poi andiamo a vedere le sei ore che vado a vedere io appunto sono quelle che la mattina quando quando mi sveglio vado a vedere come ha chiuso alle sette il grafico difficilmente trovo degli spunti su quel su quel time frame su quella come dire su quel frame di tempo lì perché durante la notte non viene fuori molto qualcosa sullo yen è uscito forse qualcosa sull'Australia però tendenzialmente insomma esce poco sul dollaro australiano sto dicendo quando dico Australia i momenti diciamo le sei ore più interessanti da un punto di vista operativo per noi e per i mercati principali che facciamo sono quella delle tredici e quella delle diciannove quindi lì è dove anche a livello di gestione operativa si va è ovvio che è quella delle due chiusure la chiusura principalmente dell'una non è che me la vado a guardare poi riguarderò le sette quindi se ho visto che a luna tra luna e le sette si è formato un qualcosa che magari è contro quello che io sto facendo vado ovviamente a spostare gli stop nel caso avrò delle piccolissime perdite o comunque dei piccolissimi stop profit che su questo time frame arrivano parecchi ma che comunque danno un po di base copro magari alcuni costi su operazioni un po più grosse o comunque anche dei rollover e quindi determinano anche la nostra operatività va bene allora io vi ringrazio vi scrivi vi chiedo di scrivere qui un commento se vi è piaciuto questo tipo di video se volete altri video di questo tipo se volete che vi faccia capire un po meglio anche come lavoro per esempio sul time frame a sei o quattro ore comunque sei ore principalmente ormai negli ultimi tempi quando faccio qualche prezzo in cina mia privatamente su sei ore la faccio più su sei ore ecco più che sul quattro però comunque se volete insomma alcuni contenuti anche di questo tipo ve li porto qui e vi cerco di trasmettere un po quella che è la mentalità e l'approccio anche tecnico e operativo io a questo punto vi vi lascio se volete lasciare un mi piace mi fa piacere se non lo volete lasciare va bene lo stesso però insomma se questo vi è servito lasciatelo e iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti e io vi auguro un buon trading simple e una buona continuazione ciao a tutti a prossimo a presto